I corsi nel piano della provincia per l'anno scolastico 2011-2012 e sono diverse le novità che interesseranno alcuni istituti scolastici superiori del Vallo di Diano. Vediamole nel dettaglio. A Padula si studieranno scienze applicate al liceo scientifico Pisacane mentre all'IPSC di Polla aprono i corsi serali in turismo ed economia aziendale. I licei musicali e coreutici, che dovrebbero essere già attivi da quest'anno, sono previsti invece nel classico Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina e nell'istituto Pomponioleto di Teggiano. Anche a Roccadaspi dello Scientifico Parmedide avrà il liceo musicale al pari del liceo classico Pisacane di Sapri. All'istituto superiore Sacco di Sant'Arsenio sarà invece istituito il corso di informatica e telecomunicazione insieme ai corsi su finanze e marketing ed in servizi socio-sanitaria di indirizzo ottico. Negli altri comuni della provincia di Salerno ad Agropoli apre invece l'istituto tecnico nel settore tecnologico con indirizzi di trasporti e logistica, mentre a San Marco di Castellabate ci saranno gli indirizzi per chimica e biotecnologie. Ad Eboli un tecnico per geometri, Oliveto Citra invece un industriale con indirizzi meccanica, meccatronica ed energia. A Battipaia si attiva invece l'indirizzo amministrativo finanze e marketing al commerciale Besta e lo scientifico media apre al liceo linguistico e musicale. Infine il liceo musicale coreotico arriva anche al confalonieri di campagna dove c'è anche il liceo delle scienze umane.